La scoperta di questa epidemia di monkeypox si ritorna, sembra di essere ripiombati all'epoca in cui c'era il dilagare dell'HIV e quindi con una sorta di parcellizzazione delle persone che venivano infettate dal virus però io sono convinta di una cosa perché contro ogni forma di discriminazione tendo sempre a ripetere che i virus non hanno genere quindi è un problema che riguarda assolutamente tutti quanti, la società che sia eterosessuale, bisessuale, omosessuale o omofittiva